Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, ampia pagina del nostro telegiornale che dedichiamo alla mobilitazione generale promossa dal Consiglio Comunale di Gela in difesa del lavoro e delle bonifiche. Una folla immensa ha invaso il corso principale della città. C'erano i lavoratori dell'indotto e del diretto che da più di una settimana presidiano le vie di accesso alla città, c'erano i sindaci dei comuni del comprensorio, il clero gelese, gli avvocati del foro di Gela, i docenti, gli studenti, i commercianti, i giocatori del Gela Calcio, negozi chiusi. Vediamo. Grazie a tutti. Tutti, insomma, negozi chiusi. Oggi il territorio sta rappresentando delle difficoltà reali perché oggi sono scesi in campo libri professionisti, sono scesi in campo operai, studenti. Tutta la città è presente e non solo la città di Gela ma anche la città dei territori vicini. Quindi è un intero territorio che soffre, che sta chiedendo una cosa molto semplice. La possibilità di vivere e per poter fare questo vuole avere regole certe. Queste regole le può dare solo il governo centrale che finalmente deve prendersi carico di un'intera collettività. Qua abbiamo bisogno di sanamento ambientale, abbiamo bisogno di una rindustrializzazione. 60 anni fa qualcuno ci ha imposto un modello economico che non era naturale per il nostro territorio. Dopo 60 anni decidono di staccare l'interruttore lasciando praticamente un intero territorio senza il suo cuore pulsante economico. Questo non è possibile. Lo sviluppo di un territorio passa anche dalla pianificazione e dall'organizzazione. Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia. È solamente una mobilitazione generale per una città che ha bisogno di risposte e per una città che sappiamo che ha tantissime risorse e che deve solo trovare il modo giusto per portarle avanti. Sicuramente il problema principale è l'occupazione, lo sappiamo tutti. Abbiamo dei lavoratori, ecco che i lavoratori dell'Indotto sono solamente una piccola parte di gente che sta vivendo dei problemi occupazionali, ma sappiamo che molte imprese stanno chiudendo, sappiamo che molti negozi sono in difficoltà e diverse attività commerciali. Tutti in famiglia viviamo un dramma o di salute o di occupazione. Quindi è l'ora di dare delle risposte, è l'ora che il governo ci aiuti, ci aiuti per delle bonifiche, ci aiuti per una ristrutturazione e una riconversione della città. Domani intanto a Roma è prevista una riunione al Ministero del Lavoro dove sono stati convocati il sindaco di Gela e il governatore della Sicilia Rosario Crocetta per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. Ieri sera a Palermo, proprio con Crocetta, i sindacati hanno concordato i provvedimenti da chiedere anche per quei 70 operai che da sette mesi non hanno più né lavoro né indennità di sostegno. Per aiutare le imprese che chiedono la cassa integrazione sarà chiesta la decontribuzione della quota addizionale al loro carico ed il ricorso ai prevenzionamenti agevolati. Infine sarà lanciata la proposta di affidare al governo la gestione dell'area di crisi di Gela attraverso la nomina di uno commissario straordinario. Adesso sentiamo la deputazione regionale gelese presente oggi al corteo. C'era anche la deputazione regionale gelese oggi alla manifestazione che si è svolta a Gela. I deputati Giuseppe Arancio, Partito Democratico e Giuseppe Federico, Forza Italia, chiedono interventi immediati al governo nazionale e in gioco hanno detto il futuro di Gela. Siamo guardati a lutto perché qui a Gela è morto il lavoro. Abbiamo la necessità attraverso questa marcia di sollecitare il presidente del Consiglio così come è venuto a dirci che chiudeva la raffineria a petrolio per darci quella green. Noi siamo qui perché la vogliamo, la vogliamo immediatamente. È passato troppo tempo, bisogna correre. Cosa si può fare per fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza occupazionale e sociale per il territorio? Guarda, Palermo può soltanto intervenire con gli ammortizzatori sociali, ma gli ammortizzatori sociali sono importanti in questo momento di grave crisi occupazionale. Ma la cosa importante è che Palermo deve pressare l'Ene e il presidente del Consiglio, Renzi, affinché riparta la raffineria e non può con la green raffineria oppure ripartire con la linea 1. Non ho capito per quale motivo tutte le raffinerie d'Italia sono rimaste aperte e hanno chiuso solo quella di Gela, dove c'è la produzione di petrolio. Per cui ci hanno preso in giro 14 mesi. Adesso deve immediatamente ripartire la raffineria. Bisogna riaprire. Gli ammortizzatori sociali sono nella fase di transizione, ma per breve tempo deve riaprire la raffineria. Questa è la grande battaglia. Il sindaco di Butera, Luigi Casisi. Il problema non riguarda soltanto Gela, ma riguarda l'intero territorio. Risentiamo la mancanza del lavoro che sta spopolando l'intero comprensorio. Il riparto fatto a suo tempo e gli accordi fatti a suo tempo fino ad oggi non sono stati rispettati. Divendichiamo il fatto della riconversione, anche perché dobbiamo mantenere l'occupazione. E questo è il messaggio. Oggi il messaggio più importante per noi siciliani è quello di garantire l'occupazione. L'occupazione è qualcosa che dà vita alle proprie famiglie. E le famiglie quando viene a mancare giustamente lo stipendio scappano. E per non far scappare, spopolare l'intero comprensorio, oggi siamo qui a rivendicare il nostro diritto, il diritto del lavoro. Anche i sacerdoti sono scesi in piazza a fianco dei lavoratori. C'era anche la classe forense. Sentiamo. Il clero a fianco dei lavoratori. La Chiesa sta con chi protesta. Il lavoro, prima di tutto. Nell'indole della Chiesa essere vicino all'uomo nelle sue diverse situazioni. E questa è una delle situazioni in cui la Chiesa avrebbe fatto un torto il non esserci. Perché il Gesù che conosciamo non è un Gesù che forse ci hanno rappresentato fino ad oggi, che è lontano dalla gente. È molto vicino alla sofferenza, alle esigenze. Il Vangelo stesso ce lo racconta in diversi episodi. Di un Gesù che è costata e si mette a servizio dell'uomo. Legate costantemente per i lavoratori. Certamente, perché non deve essere qualcosa di episodico. E io lo dico sempre alle persone che incontro quotidianamente. Non è un fatto episodico che si chiude oggi con uno sciopero. Ma è un'ansia, un qualcosa che interessa la vita dell'uomo e quindi della Chiesa stesso. Per cui il pregare è quasi il respiro della Chiesa. Padre Aldo Contrafatto, parroco della Chiesa Maria, ausiliatrice di Butera. Abbiamo preso a cuore questa situazione perché dire Butera è come dire Gela. Perché siamo, si può dire, nell'anima di Gela commercialmente, come cultura, come storia, potremmo dire. Quindi non potevamo mancare e speriamo che qualcosa si possa ottenere. Presente alla manifestazione anche la classe forense di Gela. Anche noi siamo molto solidari con i lavoratori e quindi con piacere abbiamo sposato questa iniziativa del Consiglio Comunale di questa manifestazione proprio perché noi capiamo il momento particolare che sta vivendo questa città e vogliamo essere proprio presenti per dire anche noi ci siamo. E le organizzazioni sindacali lanciano ancora una volta l'allarme. Gela sta soffrendo. Sentiamo. Combatte le sigle sindacali che oggi hanno sfilato durante il corteo in difesa di un intero territorio. CGL, CISL, Will e UGL insieme perdirono alla chiusura della raffineria Eni. Siamo qui per portare la nostra solidarietà, non solo, ma il nostro impegno perché i blocchi, se possibile, si estendono a tutto il paese perché il mondo del lavoro ha bisogno di una rivolta. Noi divendichiamo la possibilità che ci sia tutta una serie di iniziative a partire dal rispetto del cronoprogramma, a partire dall'anticipazione dei lavori, a partire anche dal fatto che il Ministero dell'Ambiente deve dare quelle 40 autorizzazioni che ad oggi mancano e questo serve per garantire i lavoratori del diretto ma anche quelli dell'indotto. Siamo a un punto di non ritorno. La città è scesa in piazza, sono scese in piazza i pensionati, ha fatto bene il Consiglio Unale in dire questa manifestazione ma il messaggio deve essere chiaro. Noi dobbiamo uscire dal conflitto che fino ad oggi c'è nazionale tra Crocetta e Renzi. Noi rivendichiamo le bonifiche, il diritto alla salute, il diritto agli investimenti. Tutto questo è contenuto nel protocollo. Basterebbe realizzarlo per dare risposte ai lavoratori dell'indotto e a migliaia di lavoratori della fabbrica e a tanti cittadini che guardano con speranza la loro vita dove sono nati, cioè a Gela. Questa è una battaglia della città perché la città non si può permettere una deindustrializzazione così come sta avvenendo. Bisogna investire. Renzi ha promesso a questa città un sogno, Mattei l'ha realizzato. Renzi realizzi la riconversione di questa città, faccia del sito di Gela un'attrattiva per creare quel polo green che lui ha promesso. Noi aspettiamo questo. L'UGL manifesta anche la soledà a questi lavoratori perché è corretto che tutti siamo presenti e che abbiamo firmato l'accordo del 6 novembre e quindi speriamo che questa manifestazione smuova qualcosa e a livello nazionale Renzi capisca che la Gela è unita. Una grande manifestazione che è da tempo che non c'era Gela. Condividiamo tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso e finalmente abbiamo una città compatta, unita perché forse abbiamo tutti capito che questo territorio è in serio pericolo. La città sta morendo, le famiglie sono alla disperazione, i lavoratori disoccupati, per cui noi assieme abbiamo deciso questa manifestazione e chiediamo al governo regionale, al governo Renzi di accelerare, di sbloccare tutti gli iter e di avviare immediatamente i lavori. Non solo la cassa integrazione come dice qualcuno, per noi è una cosa secondaria, bisogna partire con il lavoro, altrimenti Gela e l'economia di Gela rischia veramente il default. La crisi che attanaglia i lavoratori dello stabilimento Eni si riflette anche sul commercio. Il corteo di oggi ha visto la partecipazione delle numerose associazioni presenti sul territorio, c'erano anche Confo Commercio, Confartigianato, Confesorcenti, Casa Artigiani del Golfo di Gela. Gela sta subendo un danno enorme, noi infatti abbiamo preteso che si chiamasse vertenza Gela, non vertenza Eni perché è una vertenza che riguarda tutto il territorio. Il territorio non solo di Gela ma anche dei paesi vicini, noi ci siamo incontrati con tutte le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, abbiamo fatto quadrato dietro questa situazione e speriamo che chi ha le colpe, cioè in questo momento è ben individuato il Ministero dell'Ambiente, rilasci immediatamente le autorizzazioni che servono per poter iniziare la riconversione della raffineria, perché diversamente la situazione diventerà drammatica anche perché anche i nostri associati saranno costretti a licenziare il proprio personale. Siamo tutti qui a manifestare e a gridare con rabbia anni e anni di vacazio politico che abbiamo avuto perché non si è saputo portare avanti una vertenza che poteva portare sviluppo al territorio. Oggi siamo qua per manifestare assieme ai lavoratori perché vuoi o non vuoi, lo stabilimento è quello che fa il reddito a Gela, c'è poco da fare, perciò bisogna essere tutti combatti. Se falliscono le imprese, automaticamente gli operai, io non lo so che cosa facciano, quindi solidarietà agli operai, le imprese sono rappresentate, noi ci siamo, ma a questo punto io direi di togliere sia le sigle e tutto quanto, è l'urlo della città, dobbiamo salvare questa città. Rocco Fisci, rappresentante degli insediati della zona industriale. L'unica alternativa è avere dei risultati a livello nazionale e ritengo che oggi con tutta questa grande partecipazione mi auguro che qualche cosa si possa ottenere. Alla manifestazione di oggi era presente anche Lega Cop Sicilia, in corteo anche i giocatori del gelacalcio, vediamo. Ci dispiace dire che avevamo ragione quando nel novembre del 2014 chiedevamo al Governo nazionale di nominare un commissario che, sentite tutte le parti, potesse portare avanti con celerità attraverso le conferenze di servizio il dossier Gela. E' uno dei passaggi della nota diramata da Lega Cop Sicilia, Giovanni Salsetta, componente nazionale. E noi comunque abbiamo chiesto di commissariare subito il tutto e procedere a quello che si deve fare per il protocollo, perché è importante, Gela sta morendo e noi abbiamo bisogno di lavoro, chiediamo lavoro. Rimendichiamo il lavoro, la salute, lo sviluppo, gli investimenti, visto che il Governo centrale ha abbandonato questo territorio dopo anni che ovviamente produce un PIL anche a livello nazionale. Anche lo sport oggi è sceso in piazza, c'era il gelacalcio, è chiaro a tutti il legame di sangue fra la squadra biancazzurra e la propria città, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. Siamo molto solidari, per queste persone in questo momento sono in ginocchio, insomma, è una città che ormai non c'è una via di uscita, per cui anche se non sono gelese sono molto preoccupato, soprattutto per queste persone e anche per le famiglie è bisognosa. E anche le donne hanno manifestato il loro malcontento in merito alla grave crisi che interessa il territorio. Anche le donne in corteo, presente un movimento rosa per dire sì alla lavoro e per garantire occupazione e serenità ad un intero territorio. La dignità di Gela si deve riprendere prima o poi, non se la possono portare via così per il lavoro. Stiamo scendendo proprio per protestare, per andare avanti, per i nostri diritti, per i figli, perché sono già in mezzo alla strada chiunque e andiamo avanti, andiamo avanti, fine in fondo, non oggi, continuiamo. Ci hanno abbandonati tutti e noi siamo commercianti e stiamo morendo di fame. Siamo tutte le mamme a nostro dietro, con il nostro movimento, perché continueremo fino alla fine ad andare avanti. In piazza anche gli studenti. Gli studenti gelesi sono in piazza perché vogliono che il territorio di Gela si sveglia e quando usciremo dalla scuola avremo anche noi uno sbocco occupazionale. Vogliamo che lei non ci abbandoni e che ci sia sempre il lavoro. I rappresentanti della sezione marinai d'Italia di Gela. Noi siamo sempre solidali con tutto, specialmente quando si tratta del lavoro per i nostri compaesani. Questa dovrebbe essere la giornata della svolta, con la speranza che questo serva a qualcosa per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto e i lavoratori del diretto. Speriamo che qualcuno dei politici si passi la mano sulla coscienza, facendo parte anche del governo Renzi, che prenda tutto in considerazione. Il Soroptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gelesi, rivolto agli alunni delle scuole superiori, con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio. Le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo, saranno premiati i primi tre classificati. Il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Risolta oggi una questione legata ai ritardi nell'erogazione delle somme dovute dalla Regione al Comune di Gela per i lavoratori del reddito minimo di inserimento. Sentiamo. Saranno anticipate dal Comune di Gela e dunque accreditate le somme dovute per i pagamenti della mensilità di dicembre ai lavoratori del reddito minimo di inserimento. Fabrizio Morello, assessore della Giunta messinese, rassicura in questo modo i lavoratori e si attiva per il futuro affinché si risolvano i problemi dovuti alla lentezza burocratica nell'erogare le somme dovute dalla Regione siciliana. Va osservato che per certi versi sia una lentezza c'è di natura prettamente burocratica perché nel caso specifico degli RMI c'è un collegamento diretto con la Regione in quanto i finanziamenti arrivano direttamente dalla Regione. Cioè non di meno ci stiamo muovendo sia nel senso di eventualmente anticipare. Con riferimento invece e quindi anticipare relativamente a giornale e febbraio, adesso vedremo in che termini, in che modi, ma con riferimento comunque in ogni caso a dicembre già ne riceveranno gli accrediti tutti i lavoratori del RMI. E proveremo ad anticipare quello che è un po' la formazione degli elenchi che poi sono gli elenchi che vanno sostanzialmente alla Regione siciliana e quindi c'è tutta una serie di domande, di documentazione che viene fatta dai singoli lavoratori. Ad oggi ci ritroviamo con alcuni lavoratori che ad esempio non hanno fatto istanza per cui questo ulteriormente determina ulteriormente rallentamente. In ogni caso proveremo già dal prossimo anno ad anticipare quanto più possibile per evitare. Però confermiamo sin da subito che già prima o il 2 di febbraio dovrebbero già scendere regolarmente a lavorare, il che è un buon risultato in ogni caso. Quest'anno perché da diversi anni ho soprattutto che non fanno le visite mediche per cui questo dovremmo farlo entro questa settimana perché altrimenti rischeremo di andare oltre i primi di febbraio. Ma siccome siamo convinti di riuscire anche a fare questo. Open day alla sede centrale di Via Butera dell'Istituto Comprensivo Gele e Butera. Tante le attività proposte per un'offerta formativa completa e all'avanguardia. Vediamo. Open day ieri e oggi presso la sede centrale di Via Butera dell'Istituto Comprensivo Gele e Butera. Il dirigente scolastico Agata Guelli, i docenti e il personale ATA accolgono alunni e genitori rendendo nota l'offerta formativa della scuola. Attraverso i laboratori evidenziano esperienze musicali, pratiche artistiche e tecniche e con i laboratori linguistici si spiega come conseguire certificazioni Cambridge e Delf. La nostra scuola si è rinnovata, potremmo dire nel look, perché grazie a un FESD abbiamo ripavimentato, sono state tinteggiate tutte le aule, sono state messe le porte nuove, è stato rifatto il tetto, è stato installato un impianto fotovoltaico. Quindi è una scuola che si rinnova, offre spazi ampi, luminosi, con laboratori innovativi. E naturalmente dovendo fare appunto quello che viene chiamato open day, cioè dire questa scuola che si apre, si apre al territorio, perché così è anche lo spirito della legge 107, ma non c'era bisogno di una legge che ribadisse che la Mattei si apre costantemente al territorio. Questa appunto è una legge sine qua non della nostra scuola, il rapporto costante con i genitori dei nostri ragazzi e con quanti appunto preferiranno questa scuola rispetto alle altre, perché non solo offre degli spazi straordinari per poter lavorare, ma soprattutto capacità, professionalità e ancora una volta passione e cuore. Con una sede completamente rinnovata da una recente ristrutturazione e il nuovo centro sportivo di atletica leggera, Mattei Sport, la scuola è pronta ad accogliere le nuove sfide della formazione per preparare gli studenti al loro futuro, con competenze adeguate in linea con i principi dell'Unione Europea. Conquistano il podio al trofeo Kinshaka i ballerini della Lions Dance guidati dai maestri Mirko e Antonino Runza e Desiree Minelli. L'evento di beneficenza si è svolto al Palaghiaccio di Catania, la coppia Salvatore Runza e Alicia Voddo ha ottenuto il primo posto nella categoria 8-9 anni, classe C3. Primi classificati anche Gabriele Corfu e Bernadette Di Dio in coppia per la categoria 10-11 anni. E ancora prime classificate le coppie Luigi Spadaro e Ginevra a Falsa Perla, 12-13 anni, classe C2 e Stefano Castelletti e Flavia Labiso, 12-13 anni, classe C3. Ottimo secondo posto per Cristian Di Bartole e Sofia Storiale, categoria 16-18 anni, classe B3. I maestri Mirko Runza e Giulia Vancheri si sono classificati al sesto posto su oltre 30 coppie, categoria 19-34 anni, classe A1. Prossimo impegno per i ballerini in Belgio al World Open ad Anversa i prossimi 5-6 febbraio. E' prevista per domani alle 10.30 nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela la presentazione del libro Verginità rapite di Ismele Selmanai Leba. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del giorno della memoria. Un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. I saluti iniziali saranno affidati a presidenti del club services e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Saranno presenti l'editore del libro Salvo Bonfirraro e l'autrice. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è a cura degli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Saranno esposte opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Fino al 31 gennaio prossimo, presso il Palazzo Ducale, è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo, realizzata da Franco Pardo, in collaborazione con Croci Attardi. Espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra, patrocinata dal Comune di Gela, potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Proseguono gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Numero di telefono 093 3911 892 oppure 345 5880 580. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica alle 19 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il recital del pianista Davide Sciacca. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. E infine chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con l'informazione cinematografica. Il Ponte delle Spie, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, sono due gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo 18 e 21 e 30. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci. Grazie a tutti.